Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Per le statali segnaliamo sulla statale 223 di Paganico, senso unico alternato per lavori, tra i chilometri 44,2 e 38,1 in direzione di Grosseto. Ci spostiamo su un accordo Siena-Firenze, dove troviamo scambio di carreggiata ancora una volta per cantieri, tra Firenze in Peruneta e San Casciano Nord, in direzione di Siena. Siamo al traffico è il volo Firenze-Madrid delle 8.50, al momento segnalato in partenza in ritardo alle 10.05. Il volo Firenze-Bucarest delle 10 alle 11.40. Muoversi in Toscana-Infe è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!